Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di Lui. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. L'Opera e Oro Cristo. De l'Evangelo secondo San Luca. Lorsche'ils urachevèi tutto ce che prescrive la Lua del Signore, ils ritornèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait e se fortifia, rempli di sagesse e la grazia di Dio è stata su lui. Sa mère gardait dans son cœur tutti questi eventi. Aclamando la parola di Dio. Buon anno a tutti, Signore di Dio. A reading from the Holy Gospel according to Luke. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. His mother kept all these things in her heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukas-Evangelium Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galilée in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Wort des lebendigen Gottes. Lettura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazareth. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Glória a Dios, Señor Jesús. Leitura do Evangelio de San Lucas. Después de cumplirem todo, conforme a ley del Señor, voltaron a Galilea, para Nazaré, su ciudad. El niño crecía y se tornava fuerte, cheio de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sua madre, porém, conservaba en el corazón todas estas cosas. Palavra de Salvación. Glória a Dios. Glória a Dios. Glória a Dios. Palavra de Salvación. Palavra de Salvación. Palavra de Salvación. Palavra de Salva. 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 Grazie a tutti. Buongiorno. Nel nostro cammino di Catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo la Vergine Maria come Donna orante. La Madonna pregava. Quando ancora il mondo la ignora, quando è una semplice ragazza promessa, sposa di un uomo della casa di Davide, Maria prega. Possiamo immaginare la giovane di Nazareth raccolta nel silenzio, in continuo diaro con Dio, che presto le avrebbe affidato la sua missione. Lei è già piena di grazia e immacolata fin dalla concezione, ma ancora non sa nulla della sua sorprendente, straordinaria vocazione e del mare tempestoso che dovrà solcare. Una cosa è certa. Maria appartiene alla grande schiera di quelli umili di cuore che gli storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma con quale Dio ha preparato la venuta del suo figlio. Maria non dirige autonomamente la sua vita. Aspetta che Dio prenda le redini del suo cammino e la guidi dove gli vuole. È docile e con questa sua disponibilità predispone i grandi avventi che coinvolgono Dio nel mondo. Il Catechismo ci ricorda la sua presenza costante e premurosa nel disegno benevolo del Padre e lungo il corso della vita. Maria è in preghiera quando l'Arcancello Gabriele viene a portarle l'annuncio a Nazareth. Il suo eccomi, piccolo e immenso, che in quel momento fa sobbalzare di gioia l'intera creazione, era stato preceduto nella storia della salvezza da tanti altri eccomi, da tante obbedienze fiduciose, da tante disponibilità alla volontà di Dio. Non c'è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura. Cuore aperto a Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi, è come Tu vuoi. Cioè, è il cuore aperto alla volontà di Dio. E Dio sempre risponde. Quanti credenti vivono così la loro preghiera? Quelli che sono più umili di cuore pregano così, con l'umiltà essenziale, diciamo così, con l'umiltà semplice. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi, è come Tu vuoi. E questi pregano così, non arrabbiandosi, perché le giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo che nell'amore umile, nell'amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi, è come Tu vuoi. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore, che sia Lui a guidarci. Tutti possiamo pregare così, quasi senza parole. È semplice. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi, è come Tu vuoi. La preghiera sa amansire l'inquietudine, ma noi siamo inquieti, sempre vogliamo le cose prima che le chiediamo. E la vogliamo subito, subito. E la vita non è così. Questa inquietudine ci fa male. E la preghiera sa amansire l'inquietudine. Sa trasformarla in disponibilità. Io sono un chietto, prego, e la preghiera mi apre il cuore e mi fa disponibile la volontà di Dio. La Vergine Maria, in quei pochi istanti dell'Annunziazione, ha saputo respingere la paura, pur presagendo che il suo sì le ha breve procurato delle prove molto dure. Se nella preghiera comprendiamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, allora allarghiamo il cuore e accogliamo tutto. Si impara a dire quello che Tu vuoi, Signore. Promettemi solo che sarai presente ad ogni passo del mio cammino. Questo è l'importante. Chiedere al Signore la sua presenza ad ogni passo del nostro cammino. Che non ci lasci da solo. Che non ci abbandoni nella tentazione. Che non ci abbandoni nei momenti brutti. Quel finale del Padre nostro è così. E la grazia che Gesù stesso ci ha insegnato a chiedere al Signore. Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino alla morte e alla resurrezione. e alla fine continua e accompagna i primi passi della Chiesa nascente. Maria prega con i discepoli che hanno attraversato lo scandalo della Cocci. Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha pianto per il rimorso. Maria è lì, con i discepoli, in mezzo agli uomini e alle donne che suo figlio ha chiamato a formare la sua comunità. Maria non fa il sacerdote fra loro, no? È la madre di Gesù che prega con loro, in comunità, come una della comunità. Prega con loro e prega per loro. E nuovamente la sua preghiera precede il futuro che sta per compiersi. Per opera dello Spirito Santo è diventata madre di Dio e per opera dello Spirito Santo diventa madre della Chiesa. Cioè, pregando con la Chiesa nascente, diventa madre della Chiesa. Accompagna i discepoli nei primi passi della Chiesa. Nella preghiera aspettando lo Spirito Santo e poi nei primi passi, in silenzio, sempre in silenzio. La preghiera di Maria è silenziosa. Soltanto il Vangelo ci racconta una preghiera di Maria a Cana. Quando chiede il suo figlio per quella povera gente che sta per fare una figuraccia nella festa. Ma immaginiamo, figuriamoci, di fare una festa di nozze e finirla con il latte perché non c'era il vino, ma che figuraccia. E lei prega e lascia nel figlio di risolvere quel problema. Poi non si sa, non ricordo, non si sa, ma sempre la sua presenza è una preghiera. e la sua presenza fra i discepoli nel Cenacolo aspettando lo Spirito Santo è in preghiera. Così Maria partorisce la Chiesa e madre della Chiesa. Il Catecismo spiega nella fede della sua umile serva il dono di Dio, cioè lo Spirito Santo, trova l'accoglienza che fin dall'inizio dei tempi aspettava. Nella Vergine Maria la naturale intuizione femminile viene saltata dalla sua singolarissima unione con Dio nella preghiera. Per questo, leggendo il Vangelo, notiamo che ella sembra qualche volta scomparire per poi riaffiorare nei momenti cruciali. Maria è aperta alla voce di Dio che guida il suo cuore, che guida i suoi passi là dove c'è bisogno della sua presenza. Presenza silenziosa di madre e di discepola. Maria è presente perché è madre, ma anche è presente perché è la prima discepola, quella che ha imparato meglio le cose di Gesù. Maria mai dice venite io risolverò le cose, no. Fate quello che lui vi dirà. Sempre col dito segnalando Gesù. Questo lo fa il discepolo e lei è la prima discepola. Prega come madre e prega come discepola. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Così l'Evangelista Luca ritrae la madre del Signore nel Vangelo dell'infanzia. Tutto ciò che le capita intorno finisce con avere un riflesso nel profondo del suo cuore. I giorni pieni di gioia come i momenti più bui quando anche lei fatica a comprendere per quali strada deve passare la redenzione. Tutto finisce nel suo cuore perché venga passato al vaglio della preghiera e da essa trasfigurato. Che si tratti dei doni dei magi oppure della fuga in Egitto fino a quel tremendo venerdì di passione tutto la madre custodisce e porta nel suo dialogo con Dio. Qualcuno ha paragonato il cuore di Maria a una perla di incomparabile splendore formata e levigiata dalla paziente accoglienza della volontà di Dio attraverso i misteri di Gesù meditati in preghiera. Che bello se anche noi potremmo assomigliare un po' alla nostra madre col cuore aperto alla parola di Dio col cuore silenzioso col cuore obbediente col cuore che sa ricevere la parola di Dio e la lascia crescere come un seme nel bene della Chiesa. Grazie. Très semper Mary la jeune fille de Nazareth qui est en dialogue permanent avec Dieu est pleine de grâces et immaculée dès sa conception. Avec docilité et disponibilité elle prépare les grands événements qui impliquent Dieu dans le monde. Son me voici petit et immense fait saillir de joie la création tout entière. Il n'y a pas de meilleure façon de prier que de se mettre comme Marie dans une attitude d'ouverture. La prière c'est apaiser l'inquiétude c'est la transformer en disponibilité. Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection et finalement elle accompagne les débuts de l'église naissante. Sa prière précède l'avenir. Par l'œuvre de l'Esprit Saint elle est devenue mère de Dieu et mère de l'église. Chez la Vierge Marie l'intuition féminine naturelle est exaltée par son union très particulière avec Dieu dans la prière. C'est la voie de Dieu qui guide ses pas là où l'on a besoin de sa présence. Marie garde dans son cœur tout et apporte tout dans son dialogue avec Dieu. Le cœur de Marie pourrait être comparé à une perle d'une splendeur incomparable formée et lissée par l'accueil patient de la volonté de Dieu à travers les mystères de Jésus médité en prière. Et maintenant le Saint Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Il Sì della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, conferisce alla sua preghiera un valore ineguagliabile. Chiediamo la grazia di essere come lei, uomini e donne aperti a Dio, affinché Cristo, il Re dell'Universo, possa essere accolto nei nostri cuori e nelle nostre vite. A tutti la mia benedizione. Vos saluons en italien le Saint Père vient de Dio. Je suis heureux de saluer les personnes de langue française. Le oui de la Vierge Marie, mère de Dieu et mère de l'Eglise, donne à sa prière une valeur incomparable. Demandons la grâce d'être comme elle, des hommes et des femmes ouverts à Dieu, afin que le Christ, roi de l'univers soit accueilli dans nos cœurs et dans nos vies. A tous ma benediction. Most holy father, the English speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. at the end of the audience we will recite together the our father in Latin the holy father will then impart his apostolic blessing which he willingly extends to all children and young people the elderly and the sick the following is a summary of the holy father's words this morning dear brothers and sisters in our continuing catechesis on prayer we now consider our blessed lady as a woman of prayer and a model for our own life of prayer from her youth Mary always prayed with humility open to wherever the Lord might lead her we find her at prayer when the angel Gabriel announces that she is to be the mother of the son of God her simple words let it be done to me are a model for all prayer which consists in trusting openness to God's will Mary remained close to her son in prayer at the critical moments of his life even to the foot of the cross in the joy of the resurrection she prayerfully accompanied the newborn church through her openness to the power of the Holy Spirit the mother of God thus became the mother of the church Saint Luke tells us that Mary treasured all these things and pondered them in her heart in union with her immaculate heart may our hearts too be open to God's will through our own meditation on the mysteries of the life and saving work of Jesus Christ the Holy Father will now greet the English speaking faithful in Italian saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese questo mese di novembre continuiamo a pregare per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i difunti perché il Signore nella sua misericordia li accolga nel regno dei cieli su di voi e su le vostre famiglie invoco la gioia la pace del Signore Gesù Cristo Dio vi benedica I cordially greet the English in this month of November let us continue to pray for our deceased loved ones and for all who have died that the Lord in his mercy will welcome them into the kingdom of heaven upon you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ God bless you he 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 vater die gläubigen deutscher Sprache die über rundfunk und internet verbunden sind bekunden ihnen den nachfolger des heiligen petrus aufrichtige verbundenheit dankbarkeit und verehrung sie versichern sie zugleich ihres besonderen gebets gedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache danach wird der heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen gern schließe darin ihre Angehörigen ein besonders die Kranken die Kinder und die älteren Menschen es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters liebe Brüder und Schwestern in unseren Katechesen über das Gebet schauen wir heute auf die Jungfrau Maria als betende Frau wir dürfen uns vorstellen wie das junge Mädchen von Nazareth in der Sammlung der Stille in beständigem Dialog mit Gott steht durch ihre demütige Verfügbarkeit gegenüber gegenüber dem Herrn bereitet Maria die Heilsereignisse mit vor im Gebet empfängt sie die Botschaft des Engels Gabriel und spricht ihr viert zum Willen Gottes im Gebet begleitet sie das ganze Leben Jesu bis zum Tod und zur Auferstehung ebenso unterstützt sie die ersten Schritte der Kirche In der Mitte der Männer und Frauen die Jesus zu seiner Gemeinschaft gerufen hat betet Maria mit ihnen und für sie Auch hier geht ihr Gebet dem künftigen Geschehen voraus Durch das Wirken des Heiligen Geistes wurde sie zur Mutter Gottes und wird sie nun zur Mutter der Kirche Im Evangelium mag Maria zuweilen im Verborgenen bleiben um dann in den entscheidenden Augenblicken wieder aufzutauchen in Cana als Jesus sein erstes Zeichen tat und unter dem Kreuz wo sie mit ihrem Sohn im Leiden und der liebenden Hingabe vereint ist Von der Geburt Jesu bis zu seinem Kreuz ist Tod Maria bewahrte alles in ihrem Herzen und nimmt es hinein in den betenden Dialog mit Gott Wie sie wollen auch wir uns im Gebet vertrauensvoll Gottes Willen öffnen Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca nella preghiera vogliamo lasciarci guidare da Maria imparare da lei a metterci in un atteggiamento di umiltà di disponibilità di apertura verso la volontà di Dio Signore quello tu vuoi quando tu vuoi e come tu vuoi il Signore vi benedica sehr sehr herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache beim Beten wollen wir uns von Maria leiten lassen und von ihr Demut Verfügbarkeit und Offenheit gegenüber Gottes Willen lernen Herr was du willst wann du willst und wie du willst der Herr segne euch alle Santo Padre Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren queridos hermanos y hermanas siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María que es llena de gracia inmaculada desde su concepción y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación y ella y ella mujer de oración y ella forma parte de la multitud de los humildes de corazón con los que Dios preparó la venida de su hijo María fue siempre obediente a la voluntad de Dios no dirigió su vida autónomamente sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que él le indicaba por su docilidad al Señor María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su hijo Jesús desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección ella también acompañó los primeros pasos de la iglesia naciente oraba con los discípulos de su hijo y oraba por ellos y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió madre de Dios también por obra del mismo Espíritu se convirtió en madre de la iglesia a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial saludo cordialmente a los fieles de lengua española que a imitación de la Virgen María y por su intercesión el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos que el Señor los bendiga a todos Santo Padre em nome das pessoas de língua portuguesa conectadas através dos meios de comunicação social testemunho a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial e aseguro as nossas orações pelo vosso ministério petrino e pelas vossas intenções como pastor da Igreja Universal ao final da audiência rezaremos o Pai Nosso em latim após a oração o Santo Padre impartirá a benção apostólica com pensamento de modo particular nas crianças nos idosos e nos doentes leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor no caminho destes nossos encontros sobre a oração hoje nos deparamos com a figura da Virgem Maria como mulher orante podemos imaginá-la recolhida em oração quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia a sua missão o seu eis-me aqui breve mas imenso manifesta plena disponibilidade a vontade de Deus não há melhor modo de rezar do que colocar-se como Maria em atitude de total abertura aos desígnios de Deus Senhor aquilo que quiserdes quando quiserdes e como quiserdes quantos fiéis vivem deste modo a sua oração assim a oração acalma as nossas inquietudes transformando-as em disponibilidade e alargando os nossos corações para em atitude de acolhida dizermos aquilo que quiser de Senhor prometei-me apenas que estareis comigo a cada passo do caminho nossa senhora acompanha em oração toda a vida de Jesus e em seguida acompanha também os primeiros passos da igreja reza com os discípulos e pelos discípulos de Cristo por obra do Espírito Santo tornou-se mãe de Deus e por obra do mesmo Espírito é mãe da igreja Maria porém conservava no coração todas estas coisas assim São Lucas retrata a mãe do Senhor no Evangelho da Infância tudo o que acontece ao seu redor tem um reflexo no seu coração onde passa pelo crivo da oração e é por ela transfigurado Maria leva tudo ao diálogo com Deus acolhendo de modo pleno a vontade de Deus através da contemplação orante dos mistérios da vida de seu filho como seria belo se nossa vida de oração fosse mais semelhante a de nossa mãe agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa revolvo um cordial e afetoso saluto aos escoltadores de língua portuguesa da nossa Madre Santíssima impariamo a portar ao Senhor na preguiça a nossa esperança e joia le nostre angostia e preocupazione infine tutto quello che custodiamo nel cuore Dio vi benedica eis a traduzione das suas palavras dirijo uma cordial e afetuosa saudação aos ouvintes de língua portuguesa aprendamos com nossa Mãe Santíssima a levar ao Senhor na oração as nossas alegrias e esperanças as nossas preocupações e angústias enfim tudo aquilo que conservamos no nosso coração que Deus vos abençoe Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima ودعانا قداسته أن نكون على مثال مريم وأن نقول في صلاتنا يا رب ما تريد ومتى تريد وكيف ما تريد آتنا أن نكون أدوات للنعمة بين يديك وأنه قداست الباب تعليمه قائلا إن قلب مريم يشبه اللؤلؤة التي كونها وصقلها قبولها الصبور لما شئت الله من خلال أصرار يسوع وتأمولها في صلاتها كم يكون جميل لو سططعنا أن تشبه قليلا بأمنا مريم العذراء المصالية والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية في شهر في شهر Grazie a tutti. Łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie rodziny, dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszym cyklu Kateches o modlitwie przyglądamy się dzisiaj Najświętszej Dziewicy Maryi jako kobiecie modlitwy. Modli się ona, kiedy świat jeszcze jej nie zna, jako prosta dziewczyna z Nazaretu, trwająca w ustawicznym dialogu z Bogiem. Dzięki temu niepokalanie poczęta dziewica potrafi pokonać lęk, jest otwarta i dyspozycyjna. Panie, niech się stanie to, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz. Swoją modlitwą towarzyszy Panu Jezusowi przez całe Jego życie, aż po śmierć i zmartwychwstanie. Jej naturalna, kobieca intuicja zostaje wywyższona przez jej wyjątkowe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Głos Boga prowadzi ją tam, gdzie potrzebna jest jej obecność. Jest na weselu w kanie galilejskiej, gdzie Pan Jezus uczyni pierwszy cud. Jest na Kalwarii u stóp krzyża. Jest w wieczerniku za apostołami po zmartwychwstaniu. Wszystko, co dzieje się wokół, wiedzie do jej serca, by tam zostało przeniknięte głębią jej dialogu z Bogiem i przez nią przekształcone. Czy to, gdy chodzi o dary magów, czy też o ucieczkę do Egiptu, aż po straszliwy Wielki Piątek, dzień męki jej syna. Od Maryi, Matki Bożej, uczmy się pokornej i wytrwałej modlitwy, byśmy potrafili odczytywać i rozumieć wolę Bożą w naszym codziennym życiu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polaków. Ogi, w Polsce, ricorre la memoria liturgica della beata Karolina Koska, vergine martire. A 16 ani, subiła morte per martirio in difesa della virtù della castità. Con il suo esempio, ancora oggi indica, specialmente ai giovani, il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Affidatevi alla sua intercessione, perché vi aiuti a testimoniare con coraggio le virtù cristiane e i valori evangeliici. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj w Polsce przypada liturgiczne wspomienie błogosławionej Karoliny Kuskówny, dziewicy i męczennicy. Mając 16 lat, poniosła śmierć męczeńską w obronie cnoty czystości. Swoim przykładem, także dzisiaj, ukazuje szczególnie młodym wartość czystości, szacunek dla ludzkiego ciała i godność kobiety. Powierzajcie się jej wstawiennictwu, ażeby pomagała Wam świadczyć z odwagą o chrześcijańskich cnotach i wartościach ewangelicznych. serca Wam błogosławiam. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale sono lieti di esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con la recita del Padre Nostro in latino al termine del quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che stende in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi celebriamo la dedicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano e quella di San Paolo sulla Via Ostiense. Questa festa che pone in luce il significato della Chiesa, edificio sacro dove si raccolgono i credenti, susciti in tutti noi la consapevolezza che ognuno è chiamato ad essere Tempio vivente di Dio. Il mio pensiero va infine come di consueto agli anziani, ai giovani, ai malati e agli disposti novelli. Vi esorto ad amare la Chiesa del Signore, a cooperare con generosità e entusiasmo alla sua edificazione, a vivere l'offerta della vostra preghiera e della vostra sofferenza come un contributo prezioso alla costruzione della Chiesa del Signore che dimora dell'Altissimo fra noi. Grazie. Pater Nostere, qui esi Santificetur Nome in Tum adveni al Regno in Tum fia Voluntas Tua sicciti in cielo e in terra e nel nostro quotidiano da novi soli e dimite novis debita nostra sicciti nosti mitimus debitori nostri e nei nostri inducas in tentazione si libera nostra amare. Domino Poviscum e un Spirito tuo sin nome Domini benedictum e es omnum e Fus tu in secolum aiuterio il nostro in nomine Domini cui vedi in cielo in et terra benedica al vosso omnipote Zeus Pater et Filius et Spiritus Santos Amen